Il cambiamento profondo di paradigma Oggi parleremo dell'esigenza di un cambiamento profondo di paradigma che prende atto di un fallimento, è il fallimento della mano invisibile dell'economia e l'esigenza di costruire un mercato dove gli investimenti siano collegati non solo al rischio e al rendimento che abitualmente sono i fattori in base al quale si scelgono e si determinano gli investimenti ma anche in base alla catena del valore sociale e ambientale che producono o che distruggono. Questo è quello che chiamiamo il cuore invisibile del mercato cioè una possibilità di trasformare le scelte, le decisioni di investimento e di produzione in base a questo paradigma. Di questo Human Foundation si occupa da molto tempo nel nostro paese, ormai cinque anni. C'è una infrastruttura intangibile che è necessaria per sviluppare questi mercati e questo nuovo approccio all'economia e queste infrastrutture intangibili sono i metodi e le metriche per la valutazione dell'impatto sociale. Questo nuovo movimento globale che si sta formando e che io credo piano piano dovrà essere assolutamente accolto anche nell'Accademia Ortodossa. Gli investimenti 3D per me sono gli investimenti che sono fondati su scelte legate a tre determinanti, a tre fattori, il rischio, il rendimento e la catena del valore che producono o distruggono. Grazie. Grazie. Grazie.